L'amico Italo è un amico, condividiamo tante cose insieme, il consiglio di amministrazione della Fondazione Alleanza Nazionale, tanti gli anni di militanza insieme all'amico Italo e quindi è un piacere essere qui perché ha scritto un libro importante, un libro che va a rivendicare determinati passaggi della storia della destra e che va anche ad indagare quello che è il sentimento di un'Italia profonda che ha sempre evidentemente cercato e ritrovato nella destra il proprio idem sentire. Trovo a pelle un po' un'analogia con quello che è successo anche recentemente a inizio novembre negli Stati Uniti dove mentre qualcuno voleva far passare un paese dipingendolo con un sentiment particolare poi la campagna elettorale ha disvelato determinati valori e penso che con questo libro Italo cerca di fare un'operazione verità raccontando l'Italia vera, l'Italia che molto spesso magari è silenziosa, che determinate pagine della storia magari non ha avuto il coraggio o la forza di rivendicarle ma che poi in realtà si scopre essere profondamente ancorata a valori tradizionali e conservatori. Prima lei parlava di campagna elettorale e allora tuffiamoci in quella che sarà la tornata delle regionali. Ci vuole ancora un po' di tempo però ieri la proposta di Forza Italia è arrivata e non è la prima volta di Martuscello candidato governatore per Forza Italia e chissà anche per il centro-destra. E' il vostro pensiero. Ma allora intanto io penso questo, io penso che questa è una importante occasione di riscatto per la campagna, lo dico da parlamentare nazionale, noi siamo coscienti del fatto che senza una filiera istituzionale anche la compagine parlamentare e governativa può lavorare fino a metà perché diciamo questo è un paese che dopo la riforma Bassanini, voluta dal centro-sinistra, ricordiamolo, sempre è un paese dove determinate materie vengono governate anche con la concorrenza e addirittura a volte con l'esclusività della materia regionale. Pertanto vivere da campano una stagione governativa senza poter avere invece la possibilità di collaborare con una filiera istituzionale dello stesso colore politico è per noi una esigenza ormai irrinunciabile. Pertanto la regione Campania sarà la madre di tutte le battaglie per quanto riguarda Fratelli d'Italia. Martuscello è un valido alleato, rappresenta un partito per noi importante, Forza Italia, però allo stesso tempo ovviamente io rivendico il fatto che non è che un partito alleato si può svegliare la mattina e anche legittimamente avendo delle aspirazioni che per carità ritengo siano legittime, ma penso che questa è una decisione talmente importante che non può che prevedere la condivisione e la concertazione dei partiti alleati. Ricordo a me stesso che tra l'altro Fratelli d'Italia è il primo partito di questa regione, oltre a essere il primo partito d'Italia penso che forse una decisione del genere vada presa con il concerto di tutti. Ecco non voglio fare polemiche ma forse un po' di cultura di governo in più e anche un po' di cultura della coalizione, di come si sta in una coalizione, probabilmente qualcuno dovrebbe ripassare qualche pagina di prammatica politica. Noi non potevamo non essere presenti, oltre tutto per salutare un amico di vecchia data, un amico storico che ha fatto anche la storia nei nostri territori per quanto riguarda il centro-destra e alleanza nazionale. Stamattina, al di là della presentazione del libro, è un'occasione per incontrare un po' di amici perché è cosa buona e giusta ogni tanto vederci, scambiarci qualche opinione, anche ai margini di un convegno come quello di stamattina, perché i tempi stringono e perché a breve avremo la nostra campagna elettorale per le regionali, alla quale il centro-destra si deve presentare pronto. Tra l'altro proprio questo volevo chiederle, ieri è arrivata la proposta anche abbastanza perentoria di Forza Italia, a Caserta, l'europarlamentare Fulvio Martuscello sarebbe il candidato di Forza Italia. Almeno questo è quello che si è detto ieri nell'incontro. Guardi, a noi il candidato governatore per la regione viene in un secondo momento. Noi dobbiamo creare le condizioni di un programma credibile e di una squadra coesa. Fare passi in avanti, prima ancora che si decide in tutto dove nelle serie istituzionali si deve pur decidere, credo che sia come anticipare un discorso che adesso è prematuro. Noi lavoriamo innanzitutto perché Fratelli d'Italia sia un partito della coalizione forte sui territori e è ben augurato che anche gli altri alleati della coalizione lavorino perché il partito che si rappresenta possa crescere sui territori. Ma alla fine il discorso sarà un discorso comune dove i partiti anche a livello romano, anzi principalmente a livello romano, si siederanno e decideranno il candidato migliore per la regione Campania. Certo, questa tornata non possiamo regolare né a De Lugo né agli altri il vantaggio di un candidato non credibile. La scelta sarà fatta non solo su chi da presente nella coalizione in numero maggiore di partito esistente sul territorio ma credo che vada anche nell'ordine di presentare uomini che possono fare la differenza. Tutto il resto, tutte le fughe in avanti in questo periodo credo che non siano né opportune né necessarie.